benvenuto a sto cazzo di rito comunque qua all'inter della leggenda andate ragazzi qua siamo stati in triplete proprio magnifico ottimale prima torna con la roma 1 a 0 con il gol dei primi litri in finale di coppa italia subito proprio per espandere poi c'è stata una vittoria di siena in campionato siamo stati magnifici vinto tutto quanto poi c'è stata e 3 il tripletone bayern inter ragazzi 0 2 vinciamo la coppa dei campioni poi c'è stata anche tutto tutto l'espluato quella racconta la finale raccontata le sensazioni campioni d'europa ragazzi non vedete che cazzo ne pensate non abbiamo potuto ibrahimo ci sembravano imbattibili invece avevamo fatto il culo abbiamo fatto 0 2 prinzio emilito o giulione fa la grandissima parata e molto altro barotella coppa in aria iscrivetevi al canale che cazzo